Continuiamo quindi l'esercizio che è stato iniziato il giorno precedente e che consiste nell'andare a calcolare la distanza che ha ciascun punto dell'array da tutti gli altri. L'array contiene delle istanze della classe MyPoint e abbiamo supposto che all'interno di questo array ci fossero solo 4 punti. Per semplificare un po' la comprensione dell'algoritmo ho disegnato un diagramma di flusso. Adesso lo vado a simulare così per far comprendere a tutti che cosa fa. Intanto la dimensione supposta è di 4 elementi, la dimensione meno 1 è 3 ovviamente. e partiamo con l'inizializzazione della variabile I a 0. Poi la condizione del ciclo più esterno. I minore di dim meno 1. I minore di 3? Sì. Allora seguiamo il ramo true. Qua mi sono accorto adesso che manca un false. E lo aggiungo. Quindi siccome la condizione è vera andiamo a inizializzare anche la variabile J. J è inizializzata al valore di I più 1. Per cui 1. Entriamo nel ciclo più interno. Condizione J minore di dim. J vale 1, dim vale 4. La condizione è vera. E quindi andiamo a calcolare la distanza tra punti con indice I e punti con indice J. L'ho scritto in questo blocco perché non si tratta di un'operazione elementare. Quindi calcoliamo la distanza tra punti con indice 0, I, e punti con indice 1, J. A questo punto J viene incrementato di 1. Quindi diventa 2. Si torna a testare la condizione del ciclo. J è minore di dim e ancora minore. Quindi andiamo a calcolare la distanza tra punti con indice I e punti con indice J. Questa volta punti con indice I è sempre 0, ma punti con indice J è invece punti con indice 2. Incrementiamo nuovamente J che diventa 3. Torniamo a testare la condizione. J è minore di dim, sì, è minore. Quindi ancora entriamo dentro il ciclo e calcolare la distanza. Questa volta tra punti con indice 0 e punti con indice J che vale 3. Quindi abbiamo calcolato la distanza del punto che si trova nella posizione 0 con i punti che si trovano nelle altre posizioni. Adesso andiamo a incrementare J. J vale 4. Tornando alla condizione questa diventa falsa perché J non è più minore di dim. Quindi si esce da questo ciclo in più interno andando a incrementare però la I. Quindi I adesso vale 1. e torniamo alla condizione più esterna del ciclo più esterno. Ci chiediamo se I è minore di dim meno 1 è ancora minore per cui entriamo di nuovo dentro il ciclo assegnando a J il valore di I più 1, ossia 2. Poi di nuovo facciamo di nuovo operazioni simili a quelle che abbiamo visto prima. Cioè entriamo nel ciclo, ci chiediamo se J è minore di dim, prima di tutto. Ed è vero che è minore di dim. Entriamo nel ciclo e calcoliamo la distanza. Questa volta tra punti con indice I che vale 1 e punti con indice J che vale 2. E poi incrementiamo J. Quindi J diventa 3. Torniamo a testare la condizione. J è ancora minore di dim. Entriamo nel ciclo e andiamo a calcolare questa volta la distanza tra punti con indice I che è sempre 1 e punti con indice J che vale 3. Incrementiamo J che passa a 4. E a questo punto la condizione J minore di dim è falsa. Usciamo dal ciclo più interno e incrementiamo la I. I varrà 2. Torniamo su. Ci chiediamo se I minore della dimensione meno 1 sia ancora minore. Quindi di nuovo inizializziamo J al valore di I più 1, quindi 3. Ci chiediamo se J è minore di dim. J è minore di dim, certo. Quindi entriamo nel ciclo e calcoliamo la distanza tra punti con indice I che vale 2 e punti con indice J che vale 3. Incrementiamo J. J adesso diventa 4, ma la condizione J minore di dim non è più verificata, quindi si esce incrementando I. I diventa 3. Tornando su, ci chiediamo se I è minore di dim meno 1, ma anche questa condizione non è più soddisfatta, quindi si esce dal ciclo. E come potete osservare abbiamo calcolato la distanza del punto che si trova in posizione 0 dai punti di posizione 1, 2 e 3, la distanza del punto di posizione 1 dai punti di posizione 2 e 3 e la distanza che ha il punto di posizione 2 dal punto che si trova nella posizione 3. E così abbiamo calcolato appunto la distanza di ogni punto da tutti gli altri. Adesso possiamo andare a codificare questo algoritmo in Java e lo aggiungiamo nella classe UsaMyPoint. Parto quindi con la codifica del for più esterno che ho così evidenziato con questo colore giallo. Quindi for int i uguale a 0 i minore di dim meno 1 e poi i più più All'interno di questo ciclo for abbiamo l'inizializzazione di J e la condizione in blu e l'incremento di J però questo fa parte di un altro ciclo for quindi ci sarà un for anidato for int J uguale i più 1 J minore di dim e J più più Adesso questo calcolo è la distanza tra punti i e punti con indice J e si ottiene scrivendo punti con indice i poi dobbiamo utilizzare il metodo distance della classe MyPoint quello però che ha un solo parametro perché qui non abbiamo le coordinate del punto che si trova nella posizione J ma conosciamo il riferimento all'oggetto all'istanza quindi distance e poi passiamo come parametro punti con indice J e questo è quanto per poter vedere se questo algoritmo funziona ho bisogno di collocare all'interno del ciclo for più interno una system.out.println per vedere quanto vale questa distanza quindi qua aggiungerò system.out.println e posso anche aggiungere una frase che accompagni il risultato eseguendo ecco che abbiamo le varie distanze adesso bisognerebbe provare a calcolarle potete provare voi per verificare se il calcolo è corretto comunque vedete appunto che le distanze sono proprio quelle che noi ci aspettavamo